Ora che finalmente sono tornato a Nara, devo andare dal dottore. Lui ha delle novità molto molto importanti a darmi riguardo al portale. Buongiorno dottore. Salve ragazzo, è da molto che ti stavo aspettando. Sai, ho delle cose da dirti. E io sono qui appunto per ascoltarle. Riguardo all'altare che ti avevo chiesto di fare delle ricerche e di appunto cominciare a costruirlo per non aiutarmi, ci sono delle novità? Certo ragazzo, è tutto pronto. Devi soltanto fare gli ultimi accorgimenti che ti dirò. E sì, sto usando il futuro, perché te lo dirò poi. C'è una cosa che tu prima devi sapere. Praticamente quest'altare qui è un altare, usare di dire quasi mistico. Ti può dare grandi poteri, può toglierti grandi poteri, può darti tutto, ma non solo può non darti niente, ma può anche levarti tutto ciò che hai. Non so se ci siamo capiti. Vedi, farò un rituale del genere, comporta grandi rischi. Io voglio che tu ne sia al corrente di questa cosa. Quindi, per favore, non prenderla leggera come scelta. Io, per il momento, non voglio dirti una di più, se non che è tutto pronto. Però, per favore, ora vai via, pensaci. E quando sarai veramente sicuro della tua scelta, comprendendo ogni pericolo e ogni rischio, torna pure da me. Ti spiegherò cosa fare. Io, però, non me ne assumo nessuna responsabilità. Fai come vuoi. Uh, qui si fa interessante la storia. Devo dire che pensavo fosse tutto più facile. Ragazzo, se fosse facile, l'avrebbe già fatto qualcun altro. Non prendere le cose alla leggera, veramente. Qui non stiamo scherzando. Ah, cavolo, io pensavo di venire qui e ricevere buone notizie. Beh, diciamo che queste non sono né buone né cattive notizie. Vanno interpretate, dai. Beh, ho capito. Allora, ci penso su e ci rivediamo appena avrò le idee più chiare. Va bene, ragazzo. Ottima scelta, per ora. Grazie ancora di tutto. Ci rivediamo. Ah, questa non ci voleva. Piccolo contrattempo. Mi sa che dovrò fare un altro giorno. Sempre se lo farò. Però il fatto è che io voglio quei superpoteri. Ma sono veramente disposto a rischiare così tanto? Sinceramente non lo so. Io sono un contrabbandiere. Vivo di beni materiali, scambi e robe simili. Perdere tutto sarebbe veramente una cosa tragica. Quindi ci devo pensare bene. Sì. Ok, a questo punto non mi rimane che andare a casa e vedere un pochettino cosa posso fare mentre penso alla scelta da prendere. Quindi andiamo. No, vabbè, dai, non ci credo. Questo è Mega Geridos. Oh mio Dio. Ma quindi se riesco a ucciderlo posso fare Mega Geridos Shiny. Ragazzi, spero mi dia la Mega Pietra. Facciamo un baldeale ignorante. Non si va a shottare per poco. Ok, ce la faccio. Non riesce, la faccio con questo attacco qui. Vediamo. Spero me l'abbia data. Dai, vabbè, a parte i livelli. Oh mio Dio. La gig. Non so. Come cavolo si pronuncia? Il resto lo buttiamo. No, ragazzi, non ci credo. Devo assolutamente provarlo. Questa è la cosa più bella che abbiamo mai trovato fino ad ora su Minecraft. Veramente. Allora, intanto il mio Geridos. Dove cavolo si trova? Eccolo qui. Geridos Shiny. Lo metto al posto di Lapras. Tanto non mi importa tenerlo ora. E ragazzi, io sono emozionato. Mega Geridos Shiny mio. Cioè, seriamente. Però lo vediamo. Il mio è di livello 20. Quindi, in teoria, è uno schifo. Cioè, trepa subito. Mi serve un nemico che veramente sia una merda. Non so cosa utilizzare. Magari potrei utilizzare un Magikarp. Perché alla fine a me interessa vedere l'evoluzione. Mica altro. Ma non ci sono Magikarp qua? Qua c'è un Pokémon. Goldeen? Ok. Va bene, penso. Però, ti prego, rimani fermo. Tra l'altro è stato catturato con cosa? No, non vedo nulla. Accidenti. E in effetti, Geridos è un po' grosso. Tranne il mio. Il mio cavolo è mini questo. Ma perché, scusa? Guarda ragazzi, una cosa. Perché lì lo vedevo per bene. E poi lo lancio. E si vede uno schifo. Decide di starmi dentro. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Allora, mosse mega evoluzione. Li facciamo splash. Che non dovrebbe fare danno. Ragazzi, mamma mia. Voglio vederlo. No, vabbè. No, vabbè, raga. È bellissimo. Cioè, lo vedo purtroppo da dietro. Non ho modo di vederlo lateralmente. Però, cavolo, è bellissimo. Li facciamo un'azione. Vabbè, lo andiamo anche a shottare così. No, dai, ma è mega Geridos shiny. Cioè, seriamente. Seriamente. È spettacolare. Eh, vabbè, per il momento tengo in squadra. Magari fa un po' di livelli easy, diciamo. E intanto, ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Che nell'ultimo episodio, appunto, sono andato in caverna e ho scalato tantissimo oro. Ne ho anche un bordello qui che l'avevo già spostato. E mi sono fatto un altro chest random in cui vorrei mettere, tipo, i materiali. Già che ce l'ho tutti tipo stra-incasinati. Già che ci sono, metto a cuocere anche questo ferro qui che ne ho otto pezzi. Se non so, ne ho un po' di qua di ferro, no. Mi sono confuso. Cioè, ce l'ho stato tanto qua, trenta? Ah, no. Infatti, no. C'è ne nove di qui, trenta di là. Oh, ma cos'è? Tutto messo a caso. Beh, in effetti, casa mia. Non mi stupisco che sia tutto incasinato. Ci sono robe sparse ovunque. Però è in tante notte. Magari dovrei andare a dormire. Ok, è giorno. Io comunque oggi me la sento parecchio, parecchio buona. Quindi vorrei un attimo andare a esplorare il generale qualcosa. Perché veramente trovo una mega evoluzione così figa. C'è la possibilità di trovarne anche un'altra, secondo me. E... Ho provato, ora che sto andando sopra al dottore. Beh, in effetti, ragazzi, io penso che comunque la farò come cosa. La farò perché ultimamente... Cioè, troppe storie intorno a questa roba qui. Non posso fare... Fingere di fare l'altare. Cioè, tante storie. E poi non fare l'altare. L'altare va fatto e devo utilizzarlo. Se non proprio io perché ho paura, dovrei farlo fare a qualcun altro. Ma chi è che rischierebbe di perdere tutto al mio posto? Nessuno mi sa. E tra l'altro, magari, se ci dovesse riuscire, avrebbe dei poteri inimmaginabili da quello che ho capito. Quindi... Diciamo che no. Se lo faccio, lo faccio decisamente io. E qua c'è un ultra ball. Incredibile. E sopravvissuto a tutte le mie esplorazioni nella mia isola. Vabbè, nulla di spettacolare, comunque. Dopo tre anni, intanto, sono riuscito a trovare la strada per andare al centro. È sempre un'impresa. Però per fortuna ce l'ho fatta, veramente. Ho fatto, penso, il giro opposto. Come sempre del resto. Intanto, un leggendario che spona. Dove? Dove, però? Di certo non sono questi uccellacci qui. Ehi, ma al centro ci sono dei buchi pieni di materiali. Ma questo è anche ferro? O no? Non capisco. No, non è ferro questo. O sì? No, bauxite. Ma non la voglio la bauxite. A me serve il ferro. Un po' di iron non c'è? Mi sembra di non vederlo. Peccato. Alla fine era l'unica cosa che mi interessava. Però, veramente, ci sono tipo dei depositi. Ci sarà anche uno di ferro, non so. Quello, guarda, non è che mi serva realmente. Però potrebbe tornare utile. No, tutta bauxite. Vabbè, niente. Un villaggino bellino. Questo mi sembra tipo di non averlo mai visto, in effetti. Chissà se c'è gente e se è ospitale. Mmm, sembra tutto vuoto. Oh mio Dio. Che figo sto posto. E qua c'è un boss equal. Ok. Sfidiamolo. Devevi cominciare con, magari, Geridos. Tanto... Oh mio. Ha lanciato un Pikachu al 100. Questo è, è tipo, il boss veramente boss dei boss. Cioè, non ho mai visto un allenatore tirare fuori i Pokémon al 100. Dai. Mi sa che dovrò utilizzare... Eh, vabbè, la Madonna, cosa vedo da qui. Mi sa che dovrò utilizzare la mia squadra seria, sapete? Tra l'altro, oh, cavolo, è pure... È pure un po' messo male. Vabbè, speriamo attacchi. Ok, perfetto. Fa prima il mio. È vero che, in effetti, con oh, ragazzi, almeno che lui non tiri veramente fuori qualcosa di OP, il mio si autocura. Quindi, cioè, sti cavoli, gli va in teoria a shottare. Però mi ha paralizzato. Vabbè, non dovrebbe essere così grave come cosa. A parte il fatto che non mi posso muovere via. Sì, mammo. Ok, perfetto. L'ho ucciso. È finito. C'è... What? Aveva un... Il boss aveva un Pokémon. Un Pikachu al 100. Uno. Beh, pensavo fosse più impegnativa come cosa, non che mi stia lamentando, eh. Una volta al giorno può essere sfidato. Ok. E qui ci sono 16 Pokéball che mi prendo. E, oh mio Dio, oh, no, non volevo te, mi dispiace. Cioè, sì, però non ora. E di qua 32. Beh, io 16 me le prendo perché le considero come una ricompensa per averti ucciso, signor dottore. E qua cos'hai? La macchina della clonazione. Ah no, questo è di un fossile. Ok, non è clonazione. Giustamente, quella della clonazione ne ha un altro accanto. Figo, figo, figo. Quindi la posso utilizzare per i fossili, questo qua. Molto interessante. Poi questo cos'è? Tipo una struttura o ha un senso, effettivamente? Perché... Questi sono degli ender portal, dei frame dell'end portal. Però ci sono tipo dei hopper qui, delle tramogge, quindi non capisco. E, tra l'altro, sembra avere un senso questa roba qui. Ci sono questi dentro, i beacon dentro. Sapete cosa sembra? Con questi blocchi qua. Mi sembra un potenziale rituale come vorrei farlo io. Magari non è così quello che volevo fare io. Però cavolo, ha i beacon, ha tutto. Io sono quasi tentato di rubarli questi. No, ragazzi, io li vorrei rubare. Io li voglio rubare, anzi. No, no, dai, non si fa, non si fa. Schiaffetto sulla mano, non si ruba, non si ruba. Però cavolo, ci sta. E' strano vedere queste cose, perché io... Io questi posti qui non li ho mai veramente esplorati. Ma sapete una cosa? Ma schiaffetto sulla mano, una bella sega, ragazzi. Qui io sono un contrabbandiere, non mi faccio scrupoli. Qua si ruba proprio tutto e chi se ne frega. I beacon mi servono e quindi li voglio prendere. Sapete una cosa? Guardate un attimo qua sotto cosa c'è. C'è un piano fatto totalmente in ferro. Io lo prendo il ferro. Lo prendo in modo simmetrico, però così... Sembra quasi che sia fatto così il posto. Perché questo mi potrebbe essere veramente molto molto utile quando appunto magari andrò a fare il beacon. Ah, ma c'era una porta qua dietro. Ah no, che era una di questa... Ma ragazzi, ma ha un senso questa roba? Perché c'è una porta veramente, ma non ha senso. Magari era un portale per qualcosa e io l'ho appena distrutto. Ah, chi se ne frega. Nove pezzi mi basta. In verità me ne basta. No, in verità servono nove pezzi proprio per quello che dico io, per attivare il beacon. Quindi a questo punto me ne vado. Però prima voglio vedere se qua dietro c'è qualcosa. No, probabilmente finiva lì perché lì c'è il muro. Ok, figo. Voglio vedere se girando al centro trovo altri di questi villaggini. Sono carini, dai. Simpatici, diciamo. Soprattutto se c'è roba da rubare. Ovviamente io vado lì, sfido, vedono che sono il più forte e nessuno mi dice niente se sgraffigno le cose. Allora, mi sembra ne aver girato tutto completamente il centro. E non ho trovato granché di interessante. Né mega evoluzioni né altre strutture che non conosco. Anche se magari l'ho girato male quindi troverò sempre qualcosa di nuovo. Lui cosa che mi rimane è questa qui ragazzi. Mistero irrisolto. Cosa sono questi? Sono tutti allenatori di livello differente. Chi è più alto, chi è più basso. Non di tanto comunque. Insegniamo. Ok, questo non c'entra nulla. Il più alto è questo qui appunto di livello 35. Beh, ok. È una piazza di allenatori. Tipo la piazza degli allenatori. Non so, è un po' strana letta così come cosa. Però non importa. Ho proprio a sfidare quello di livello più alto anche diciamo per conquistare questa zona tra molte molte virgolette. Ovviamente non è che abbia veramente senso. Però è una cosa ovviamente che voglio fare. Ciao Geridos. Sei stato un grande amico. Più o meno. Io direi di usare Delfox ragazzi. Da quando è cominciato la serie l'ho usato ben poco devo dire. Anche se... Ok, perfetto l'ho bruciato. Se non lo bruciavo era un po' un problema in effetti. Oddio, per la differenza di livello che c'era forse forse dovevo anche shottarlo. Comunque, fiamme intense di colore viola causano una scottatura al nemico. Quindi andiamo a bruciare il nemico. Però non fa danno. Quindi... Boh, per ora lo rinuncio. Però, come tutti voi saprete, posso sempre rimetterlo in futuro. Nel senso, una decisione ricordiamo che non è perenne. E quindi può essere anche rimediato dopo al danno. Un eventuale danno che ho fatto. Comunque, ok. Ha bastato tanto due Pokémon. L'ho sconfitto abbastanza facilmente. Anche addirittura con il mio starter. Che anche se non ha fatto molti livelli, comunque è riuscito senza problemi a sconfiggerlo. Qua c'è un volontario. Vediamo, anche lui gli facciamo un lanciafiamme e lo shottiamo subito. E niente, a questo punto penso di aver esplorato tutto il centro, tutta la mia isola. Mi mancherebbe ad esplorare le isole che appunto si trovano qui a giro. Vedo laggiù che c'è la mesa. Mi sembra di aver visto anche altre isole intorno. Però alla fine non è nemmeno così importante. Io comunque sono strafelice di essere andato al centro. Ragazzi, oggi siamo riusciti a fare mega evolvere il nostro Geridos Shiny. I mega Geridos Shiny. Abbiamo sgraffignato ben tre Beacon e un pochettino di Pokéball che non serviranno a nulla. Ma cosa molto, molto importante, i blocchi di ferro. Che, come tutti voi saprete, ci vuole un bordello per andare a scavare. Perché se io scavo, se io scavo qui in questo punto, i blocchi di ferro non ci sono. Cioè, il ferro manca proprio. Io lo devo rubare da qualche parte. E rubarlo dal villaggio abbastanza brutta come cosa. Per fortuna che ho trovato quel posto lì. Che era pieno, ma veramente strappiano, di blocchi di ferro. E tutto sommato non l'ho nemmeno rovinato. Dai, ci sta come. Cioè, dico come l'ho lasciato. Quindi, a questo punto, non mi rimane cantare dal dottore. E far sapere la scelta che ho preso. Spero solo che vada tutto bene. Peca peca! Spero solo che vada tutto bene. E lo so stesso, che siete troppo state. E' un duo, mentre mi rimane cantare. E la seconda, non mi rimane cantare. E lo so stesso. E lo so stesso.